Tutto pronto per la 28esima edizione di Fight Clubbing, il più grande evento di sport da combattimento d'Italia e di Venator FC9, in programma sabato 18 dicembre presso il Palatricale di Chieti. A partire dalle ore 18 i grandi campioni internazionali del ring incroceranno Tibi e Guantoni all'interno dell'arena, dando vita a nove match pro di kickboxing pugilato in Muay Thai. Gli incontri andranno in mondo visione grazie alla presenza delle telecamere di Live Now. Fight Clubbing veramente darà spazio a proprio gli sport di lotta e noi ne siamo davvero felici perché i valori incarnati da questi sport sono davvero unici e vediamo che possa essere veramente una bella occasione per la città poco prima del Natale. Insomma noi ce la stiamo mettendo veramente tutta per fare in modo che queste festività siano massimamente partecipate e all'insegna dei grandi eventi, in questo caso dei grandi eventi sportivi. Tra i protagonisti dell'evento indubbiamente spazio ai pugili locali che sono Emanuele Cavallucci e Luca Spadaccini, ma anche la superstar italandese Suzza Korn, il campione del mondo Fabio Pusce, il campione del mondo DK1 Davide Armanini e ancora Nando Galzetta, Mita Tristerio e Gianni Bocchis. Tanti tanti atleti di livello altissimo come penso mai prima d'oggi neanche in altri eventi abrizzesi. Come vanno le cose in Abruzzo per quanto riguarda questi sport? Guarda molto molto bene, considera che negli ultimi due anni Fight Clubbing è diventata la prima promotion italiana di sport al combattimento, grazie a un successo che nel 2012 vide il Giovanni Paolo II di Pescara ospitare 3.100 spettatori. Da lì in poi ci siamo riconfermati anno dopo anno, anche sotto Covid abbiamo fatto un grandissimo evento a marzo sotto la zona rossa e adesso con Chiedi speriamo di mettere il punto esclamativo su quello che è ormai la valenza internazionale dell'evento indiscutibilmente il più grande evento di sport al combattimento italiano ed è interamente made in Italy, quindi una promotion interamente italiana e interamente abrizzese se vogliamo. Quindi Grazie. Grazie. Grazie.